Allora, ancora buongiorno a tutti, sono le 9 qui di mattina al Parco della Gaffaretta di Roma in una giornata uggiosa e autunnale, per fortuna adesso non piove e volevo un po' affrontare il tema che non tutti conoscono, penso però se ne parlava almeno i cultori del rock conoscono anche quelli del jazz la cosiddetta musica totale Allora, che cos'è la musica totale? La musica totale sarebbe la musica, è un termine coniato negli anni 60 in teoria fu coniato anche da dei jazzisti, tra cui qua in Italia Giorgio Gaslini che però venne dopo l'idea che ebbe Frank Zappa ecco, l'idea di musica totale viene in realtà sempre ricollocabile alla grande figura del grandissimo genio Frank Zappa che ci ha lasciato 31 anni fa per un tumore lasciando appunto un grande vuoto anche se i suoi grandi capolavori risalgono agli anni 60 e 70 Frank Zappa con i suoi dischi, specialmente i primi mescolava diciamo di tutto mescolava e ha anticipato parecchie cose un po' anche dalla New Wave dal Canterbury Sound, dal Progressive Rock, dal Jazz Rock quello più sperimentale, chiaro anche da certo metal perché certo metal, un po' perché c'era anche Steve Vai per esempio lui c'aveva come chitarrista, quindi c'era anche certo metal ha anticipato molte anche musiche sì, della New Wave soprattutto, sì, perché penso, non so un disco come Freak Out Freak Out era un po' un concept New Wave anti Litteram come anche We Are Only Need For The Money poi Uncle Meat che era un disco su basi jazzistiche progressive che ha anticipato tutta la scuola progressiva di Canterbury così poi anche We Is Ripped My Fresh ha anticipato anche un certo Alea Noise anche se non è stato del tutto raccolta quell'eredità perché è un disco talmente ampio un calderone talmente ampio di idee che non si può ancora un erede definitivo come non c'è un erede di Frank Zappa ecco, la musica totale ovviamente aveva questa ambizione e in Zappa ci si è riusciti di mescolare un po' tutti i generi eterogeni tra loro metterli insieme e farne un qualcosa non un minestrone buttato lì un polpettone ma un qualcosa di unico e un qualcosa che appunto potesse travalicare l'idea stessa di genere musicale quindi è un non genere musicale che contiene tutti i generi musicali è un qualcosa che va si spinge molto oltre e oltre a lui chiaramente di Frank Zappa ci sono tutti quelli che erano vicini a lui il principale era Captain Biffard che anche lui si può ascrivere come musica totale perché non puoi dire che è solo blues già con Safe As Milk diede un grosso scossone alla scuola blues perché era un blues che i blues puristi consideravano eretico un disco come Safe As Milk non parliamo di Truth Masque Replica ma anche Leak My Degas Of Baby poi anche lui anticipatore da New Wave con i dischi sulla Virgin ma non i primi i secondi tipo Shiny Beast oppure Doc The Rider Station che è proprio un classico disco New Wave uscito nell'80 che incarnava in pieno quei climi e quelle sonorità New Wave Ice Cream For Crow pure l'ultimo grande suo epitaffio sono tutti dischi poi abbastanza diversi l'uno all'altro in cui anche lì si può teorizzare una musica totale perché lui ha abbracciato vari stilemi messi insieme tenendo conto che Capitan Bifart era un istintivo non sapeva leggere neanche una nota un pentagramma andava tutto a istinto invece appunto per questo poi litigava anche un po' spesso con Frenzappa che era invece molto più accademico anche se molto fantasioso e anarchico però molto più accademico lui invece era proprio un anarchico puro quindi aveva anche degli ottimi strumentisti ma lui non li sapeva però gestire nel senso che loro suonavano lui gli andava appresso e il che a volte appunto come in Trotto Mascleplica sembra quasi che il cantante sui Capitan Bifart sta da una parte e quelli suonano tutta altra musica cioè nel senso c'è questo binomio abbastanza ostrogodo che ancora oggi a qualcuno fa venire il mal di mare a me lo trovo una delizia e a molti hanno qualcuno mi ha scritto nei commenti proprio non riesco ad entrarci in contatto neanche con un pezzo in quel disco magari si sentono Merzbo è più facile sentire Merzbo che Trotto Mascleplica ma questo è ovvio perché Merzbo è rumore puro ma Trotto Mascleplica è disgregazione armonica e per questo che non viene non viene non viene né capito e viene anche rigettato e poi poi posso pensare anche che non so di Musca Totale sempre uno del giro di Zappa Tim Buckley che era un cantatore fuori dalla schiera dei cantatori perché Tim Buckley era uno che nasceva un po' con i canti soul rhythm and blues però poi in realtà il suo vocalismo era un vocalismo come giustamente ma poi sottolineato anche Pietro quando ho fatto una classifica delle voci importanti del ventissimo secolo che io però facevo solo della musica contemporanea lui non ha torto ci ha messo anche mi ha detto di metterci anche Tim Buckley perché effettivamente Tim Buckley aveva delle vocalità che derivavano sì da roba della musica nera però rifatti in una maniera talmente astrale talmente galattica talmente personale talmente con dei culturali tutti suoi che effettivamente rientra anche nella pura vanguardia come rientra poi di una pura non ricordia di Demetro Stratos quando faceva i dischi con John Cage quindi ci sta però il suo genere i suoi dischi erano una scrivibile al rock perché erano comunque su base folk psichedelica ma solo in parte perché poi insomma lui dentro c'era dentro anche la Saudade c'era un po' di musica un po' anche di stampo brasiliano c'era un po' del jazz c'era molto jazz c'era par jazz c'era accendi di blues c'erano psichedelia tantissima psichedelia la più astratta di tutte penso all'orca la title track di l'orca penso che sia uno dei viaggi cosmici psichedelici astratti più grandi mai fatti nel senso che quella è una vita irraggiungibile star sailor star sailor e forse il disco di cantadorato psichedelico in assoluto in cui nessuno si è potuto cimentare e neanche potuto euguagliare neanche il figlio il figlio di 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 che che pure morì presto negli anni 90 aveva un tono di voce un tipo stile più vicino agli anni 90 un po' anche grunge jeff buckley intendo anzi bisogna parlare di jeff buckley perché di grace è un disco che oggi pochi si ricordano ebbe un buon successo di critica anche commerciale all'epoca ma oggi se ne ricordano pochi oggi lo voglio postare grace di jeff buckley che era un bel disco a me piaceva ecco quindi insomma è questa la musica totale dove si cerca di fondere in un tutt'uno qualcosa di vogliamo formidabile che funziona alla perfezione e che non sia ascrivibile a nessun genere quindi poi timbala che in sé non dava poi tanta importanza ai testi che spesso poi le prime volte gli scrivevano lui dava importanza soprattutto alla sua espressività vocale forse poi mai veramente espressa appieno che lui avrebbe potuto dare anche di più e alle musiche e anche agli arrangiamenti musicali perché i rischi di timbali sono anche dei capolavori di arrangiamento che non sono solo barocchi come potrebbero essere Pet Sounds dei Beach Boys o Sgt Pepper dei Beatles o se vogliamo anche Death's Atenic Majestic Request dei Rolling Stones che era un po' la versione loro di Sgt Pepper che però è per me è un buon disco quello dei Rolling Stones che hanno questi questo diciamo barocchismo fatto apposta per dare quell'idea di rock psichedelico però commerciabile anche a un grosso pubblico perché i veri gruppi psichedelici quelli veri erano chiaramente molto più garage molto più underground molto più penso ai 13 Foli delle Vedos ai Re Crayola ma anche i Seeds tanti altri gruppi erano molto più sotterrani anche i Chocolate Watch Band volendo erano molto più sotterrani a livello anche di arrangiamenti ecco quindi questa è la musica totale che devo dire ha avuto buoni frutti nella controcultura e ha influenzato un buon numero di artisti e musicisti a venire quindi ecco Frenzappa in questo è riuscito perfettamente nel suo intento e su Frenzappa vorrei anche parlare anche se la discorografia è esterminata però almeno parlare di capolavori separatamente di Freak Out Absolutely Free ecco Absolutely Free c'è appunto l'anticipazione anche un po' dell'operetta rock anche un po' di punk rock di We All In It For The Money o qualche anticipazione di New Wave di Uncle Meat che forse è il capolavoro suo massimo di We Ser Ripped My Fresh Bortum Winnie Sandwich che è un altro capolavoro e Gran Guazoo almeno questi qui vanno recensiti a parte uno per uno va bene detto questo vi auguro una buona giornata io vado a fare colazione come al mio solito con un bel maritozzo con la panna e cappuccino caldo alla pasticceria Ruggiati ciao ciao ciao